Cos'è? Vietato l'accesso? Wow, guardate! Sì! Wow, è fantastico! È un po' spaventoso. Non avere paura. È come un piccolo covo di pirati. Non giochiamo ai pirati. Facciamolo diventare un castello. Certo! Tutto quello che vuoi, Mini. Può diventare il nostro ritrovo. Il nostro ritrovo? Sì! Ma dobbiamo promettere di non rivelare mai a nessuno il nostro rifugio segreto. D'accordo? Sì! Allora, promesso? Promesso! Tesoro, tuo padre sta andando al lavoro, Dario! Un bacio! Ho detto dagli un bacio! Bravo, piccolo! Devo andare! Ci vediamo dopo il lavoro! Mini, non mi voglio più mettere il ciuccio in bocca! Non se ne parla! Se sei un bambino, lo devi fare! E ora fa la tua parte! Gugu, Gaga... Ok, iniziamo dal lato! Qualcuno lì fuori! Siete pronti? Aspettiamo che vadano via! Oh no! Che succede là fuori? Continuo dall'altro lato? Sì! Pocca, perché non continui tu qui? Oh! Signor costruttore! Aspetti! Deve fermarsi! Rodi, non è sicuro per te stare qui! Mini e Benny sono lì dentro! Per tutti i mattoni! Mini, Benny, siete lì dentro? Lasciate stare la promessa! Diteci solo se state bene! Rodi! Ci serve aiuto! Buongiorno! Qui è la squadra di soccorso! Oh, signor costruttore! Cosa? Che cosa ha detto? Che succede, Gin? Ragazzi, c'è un'emergenza! Il signor costruttore sta demolendo un edificio! Mammini e Benny sono trappolati all'interno! Cosa? Andiamo lì immediatamente, Gin! Forza, sbrighiamoci! Vi prego, aiutateci! Forza, potete farcela! La squadra di soccorso è in arrivo! Sono qui! Dove sono? Sono dentro! Ellie, va a controllare dove sono i bambini! Ricevuto! Ce ne occupiamo noi! Adesso state tutti quanti indietro! Certo! Avanti, squadra! Ahà! Sono qui! Ma l'entrata è bloccata da una trave! Non possiamo entrare! D'accordo! Ci faremo strada tra le macerie! Tu continua a guardare dall'alto! Roy, dovremo sollevare questa parte per creare un'entrata! Pensi di farcela? Ci provo! D'accordo! Vedi se riesci a sollevarla! Io entrerò e cercherò di aprire un varco! Invece tu... Amber! Pensa ai ragazzi! Ricevuto! Fate presto! Amber, ora tocca a te! Forza! Siamo salvi! Ragazzi, state bene! Sì! Allora, uscite presto! Ma state molto attenti! Polly! Sta per crollare! Uscite tutti! Sbrigatevi, ragazzi! Continuate ad andare! Forza! Via! Polly! Esci da lì! Buona idea! Polly! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Go go! Excavator! Go go go! Bulldozer! Dig it up, lift it up, excavator poke! Vroom pa, vroom pa, vroom pa boom! Push, push the dirt away, bulldozer bruner! Vroom pa, vroom pa, vroom pa boom! Go go! Dump truck! Go go go! Steamroller! Carry and dump the dirt, dump truck, dump poo! Vroom pa, vroom pa, vroom pa boom! Roll and roll, press, press, steamroller max! Vroom pa, vroom pa, vroom pa boom! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! We are the world's best construction team! The greatest friendship, supreme teamwork! We are the world's best construction team! The greatest friendship, supreme teamwork! Go go! Excavator! Go go go! Bulldozer! Go go! Dump truck! Go go go! Steamroller! Go go! Attraction team!